ruslan ruslan cosa mi combini ruslan cosa mi combini sigla va ciao a tutti ragazzi bentornati da hermy special e si e si il nostro ruslan ci ha delusi ci ha delusi con quel rigore sbagliato prima di iniziare però vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare one football applicazione che vi dirà aggiornati su tutto il mondo del calcio come vedete luogo nuovo grafica nuova notizie sempre aggiornatissime su tutto 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 il mondo del calcio utile anche per i fanta allenatori perché potete restare sempre collegati con la vostra fanta rosa potete avere le ultime notizie in anticipo rispetto agli altri fanta allenatori quindi mi raccomando link in descrizione per scaricare quest'app che vi sarà molto utile tra l'altro sono andato a prendere anche un articolo dove praticamente si parlava proprio di questo diciamo questo accadimento cioè del rigore sbagliato di malinowski che tra l'altro fa capire che come l'atalanta a san siro sia abbastanza sfigata ecco con i calci di rigore perché non è il primo che sbagliano a san siro c'è stato proprio quello di muriel contro l'inter e quello di ilicic contro che era lo shaq dardonez e si shaq dardonez quindi non è la prima volta che la dea spreca un rigore a san siro ma da russo non me l'aspettavo tra l'altro stamattina proprio ragionevo sul fatto che uno dei motivi per cui quest'estate vi avevo anche fortemente consigliato malinowski oltre che a un tiro pazzesco fortissimo no tecnicamente giocava appunto nella dea che è una delle squadre più offensive era il fatto che potesse essere uno dei potenziali tiratori di rigori di punizioni e quindi poteva portare ancora più facilmente dei bonus e tu mi tradisci così russo e tu mi tradisci così aveva già segnato un calcio di rigore ma in champions league quindi stavo aspettando l'occasione in cui russo si trovava in campo non ci fosse muriel non ci fosse nemmeno ilic ci fosse appunto malinowski in campo e venisse concesso un calcio di rigore così finalmente lo tirava lui che mai ci avessi sperato ragazzi perché questo meno tre già mi mi compromette anche la giornata comunque 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 oggi però parliamo lo stesso di calci di rigore e voglio approfondire l'argomento sono andato anche a prendere alcune statistiche le analizzeremo un po perché ovviamente questa stagione ci sono stati tanti troppi calci di rigore e questo ci fa pensare che il prossimo anno anche a livello di regolamento potrebbe cambiare si potrebbe cambiare qualcosa ad esempio non assegnare un più tre ma assegnare eventualmente un più due se per un gol dal dischetto e un meno due per un errore dal dischetto potrebbe essere un'idea soprattutto se le regole dovessero restare queste di quest'anno dove avevamo visto la probabilità con arbitro decida per la concessione di un calcio di rigore è aumentata moltissimo sia per l'utilizzo del bar ma questo già l'anno scorso aveva impennato un po questo tipo di decisioni ma soprattutto anche per la nuova regola sotto tocchi di mano oltre che poi per i contatti lievi che ormai gli attaccanti ci sguazzano ecco con questa con questa cosa dei minimo contatto e si conquistano facilmente dei calci di rigore andiamo a vedere le statistiche vediamo un po vediamo un po ricordo di seguirmi anche sui social e ringrazio tutti coloro che si stanno abbonando sia qui su youtube sia su carmi special tv link lo trovate in descrizione stanno facendo anche la sub lì perché abbiamo anche un gruppo telegram con gli abbonati con i sub anche dove appunto si chiacchiera di fantacalcio ognuno può mettere i propri ballottaggi di giornata quindi ci si scampia opinioni e sarà ancora più utile poi durante l'estate cioè state intendo prima della prossima asta perché ci si può anche confrontare su eventuali acquisti per la prossima stagione ma torniamo a noi allora statistica dei rigori ragazzi andiamo a vedere le squadre come hanno calciato questi calci di rigore la squadra che ne ha ottenuti di più è il genua ragazzi 16 calci di rigore ricevuti ed è particolare questa cosa perché se notate tra prima e terza ci sono il genuo e lecce che sono due squadre che al momento stanno lottando per non retrocedere quindi non c'entra la posizione diciamo in classifica a volte può essere una cosa un po casuale a volte può essere non dico una strategia ma un modo per provare in qualche modo a far punti anche conquistandosi dei calci di rigore vedete boh è così è così comunque 16 calci di rigore ricevuti 5 sbagliati ragazzi 30 per cento circa e non è poco non è poco quindi una media del 68 per cento di realizzazione per il genua dal dischetto mi sembra un po pesantina come come statistica comunque alcuni li ha sbagliati crescito anche jago falche particolare particolare anche se bisogna dire che il genua da questo punto di vista è un po strano la squadra visto che i calci di rigore li batte un difensore è uno dei pochi casi prima c'era anche colarvo nella roma quindi da questo punto di vista dato al fantacalcio un elemento in più cioè andare a trovare magari qualche rigorista tra i difensori c'è trova vista è sempre particolarmente importante perché ti porti facilmente poi dei più tre a casa la lazio su 15 ne ha realizzati 12 ne ha sbagliati 3 appunto anche immobile con qualche errore e lecce invece 14 ricevuti 10 trasformati 4 sbagliati 2 di mancoso di recente dopo che li aveva segnati tutti in maniera efficace e due sbagliati mi pare da babacare diciamo si è ritrovato lì a calciarli e li ha sbagliati tutti e due quindi anche qui 70 per cento di errore mentre la juventus molto più cinica 13 calci di rigore ricevuti 13 trasformati da cr7 infatti l'errore se ricordate contro il milan è stato in coppa italia quindi in campionato cr7 nessuno meno tre quest'anno ne aveva sbagliato uno l'anno scorso mi pare contro sorrentino mentre l'inter anche lei abbastanza cinica perché voglio farvi notare una cosa adesso dove sto andando a parare sul fatto che ad esempio nell'inter ci sono 11 calci di rigore 10 segnati uno sbagliato il rigore sbagliato non è battuto da lukaku è battuto da lautaro e voglio sottolinearla questa cosa perché anche nell'atalanta queste calci di rigore tre sbagliati lo sbaglia valinoski che di recente non è che avesse calciato calci rigore magari si era allenato in allenamento non lo sappiamo spero di sì però è molto però il stesso discorso per babacare nel lecce è molto più probabile che i ricori vengano sbagliati da quei giocatori si ritrovano a calciare un tiro dal dischetto senza essere rigoristi designati ok questa cosa è molto però poi ovviamente c'è la bravura anche del portiere che a volte può dire di no oppure magari situazioni particolari il rigore calciato bene ma colpisce il pane non entra un po di sfiga a volte ci può anche essere una zolla che fa colpire male il tiratore però nel complesso statisticamente ho notato più volte che i ricori sbagliati la maggior parte sono a volte di giocatori che non sono i rigoristi designati questo è capitato altre volte invece l'ultima cosa che voglio sottolineare per quanto riguarda questa classifica dei ricori ricevuti è che nella zona bassa ci sono comunque due squadre come Napoli e Sassuolo che sono diciamo tra le più offensive che però ne hanno ricevuti poco il Sassuolo 6 5 trasformati 1 sbagliato mentre nel Napoli solo quattro calci di rigore ed è strana come statistica negli scorsi anni ne avevano ricevuti un bel po di più solo quattro tiri dal dischetto quindi che tra l'altro abbiamo visto anche come nel Napoli non è semplicissimo capire chi sia rigorista spesso lo è in signa ma a volte l'ha calciato anche Milik o Mertens quindi non è non è chiaro questa cosa è una statistica così bassa cioè solo quattro calci di rigore ci anche diciamo da problemi per intuire che potrebbe essere il calcio di rigore anche per il fantacalcio del futuro mentre abbiamo visto nell'Inter sappiamo ad esempio che è Lukaku ok lo sarà probabilmente anche il prossimo anno quindi questa cosa è un po un peccato ragazzi perché avere comunque un'informazione chiara su chi è rigorista designato di una squadra ci può aiutare nella diciamo nella valutazione dei giocatori all'asta del fantacalcio perché come vi ho detto è il fattore rigorista vale molti di più a prescindere poi dalla possibilità del dell'errore perché faccio un esempio con immobile ragazzi immobile e rigorista se noi dovessimo pensare che il calcio di rigore per la questione del meno 3 potrebbe essere un problema beh a immobile dobbiamo considerare che sui tantissimi 31 gol fatti 12 o 11 non so se di questi 12 sono proprio tutti e 12 suoi comunque facciamo un conto di sì 12 più 3 sono venuti dal dischetto e non sono pochi ragazzi significa che almeno in 12 giornate perché non credo siano stati due nella stessa partita almeno in 12 giornate vi siete portati a casa un più 3 easy cioè nel senso dal dischetto senza donazione quindi è una un fattore da non sottovalutare poi ovviamente dovete selezionare magari i rigoristi un po migliori oppure quando ad esempio andate a valutare degli attaccanti che possono portare super giù il numero lo stesso numero di gol se uno dei due è rigorista ovviamente vale di più e quindi vado a scegliere vado a prendere quel giocatore vi faccio un esempio mi restano all'asta da prendere ad esempio uno zeko e belotti ok in teoria penso che la roma potrebbe comunque fare un campionato magari migliore del torino comunque magari belotti ad esempio saranno in un'altra squadra però se belotti essendo rigorista potrei dire no guarda c'è belotti che oltre magari a portare i gol su azioni potrebbe portarli dal dischetto scelgo belotti e non scelgo zeko questo potrebbe essere un esempio ecco di scelta che possiamo fare durante l'asta ovviamente dipende dalle situazioni dei giocatori che ancora restano e comunque è un buon modo per comparare i giocatori va bene spero di essere stato chiaro su questo aspetto ovviamente voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti vi siete ritrovati spesso con dei meno tre un esempio che voglio fare è Mancosu ragazzi Mancosu anche in estate vi ho detto attenzione perché dovrebbe far tutto calciare punizioni, rigori, essere diciamo protagonista da questo punto nel Lecce e lui è stato è arrivato addirittura a doppie cifre praticamente ha segnato una valanga di gol dal dischetto quindi in maniera easy cioè nel senso non su azione magari anche in partita dove non brillava poi l'andava a mettere dentro però poi i due rigori finali hanno un po' rovinato la sua fanta media ma nel complesso è sempre stata una stagione positiva per chi per Mancosu e per chi lo ha preso comunque ha sempre fatto più di quello che era previsto anche nonostante i rigori sbagliati poi una cosa che voglio sottolineare anche per il discorso ad esempio Malinowski che un rigore sbagliato ragazzi può capitare ovviamente a tutti ma non va a cancellare tutto quello di buono fatto in precedenza faccio un esempio se un giocatore vi trascina per un campionato ok come immobile poi scrivo due o tre giornate ad esempio sbaglio un calcio di rigore magari nelle ultime giornate che per voi risultano decisive perché dite no vado guarda sto perdendo il fan da calcio per il rigore sbagliato da Malinowski che sto sbagliando sto perdendo il fan da calcio per il rigore sbagliato da Mancosu da qualcun altro non è così ragazzi non è così perché i stessi giocatori magari in precedenza vi hanno fatto vincere delle altre giornate e vi hanno trascinato fino in quella posizione adesso hanno fatto un errore e probabilmente ne pagherete in questa giornata ma il fan da calcio si vince con la somma di tutte 38 giornate o di quante ne giocate nella vostra lì ok? è chiaro? detto questo dai io vi lascio vi auguro un buona fortuna anche per questa giornata ringrazio tutti coloro anche una cosa che voglio ecco da dire vediamo spero siate arrivati fino a questo punto perché un ragazzo Gianluca uno dei sub mi ha detto che diciamo ha vinto il fan da calcio e come cosa diciamo come ringraziamento forse si è andato ad acquistare nel nostro store lo trovate come sempre in descrizione e anche nelle schede penso un gadget cioè si è andato a comprare la tazza dei fanta consigli io l'ho consigliata la nera perché come la mia ed è molto figa sul nero rende molto perché lui ovviamente l'ha comprata come sorta di ringraziamento però io sono più contento oltre che alcuni di voi stanno facendo delle donazioni perché hanno vinto un buon monte premi e grazie ai miei consigli e allora mi stanno dando una percentuale dei monte premi li ringrazio ok non è diciamo non è proprio necessario però ovviamente è una cosa che fa piacere però ad esempio se acquistate invece qualcosa del genere tipo una tazza con i fan da consigli di carmi special oppure il fan da gufo ciccio caputo immobile qualcosa del genere mi fate ancora più forse più piacere magari io ci guadagno pochissimo ragazzi perché la maggior parte del guadagno va allo store però è una cosa che mi piace è che vi resta come ricordo cioè vi ritroverete la tazza che utilizzerete per la colazione per un tè la sera e vi ricorderete di questo fan da calcio vi ricorderete di quanto seguivate questo canale vi ricorderete di me ed è una cosa che secondo me va oltre il compenso monetario o qualsiasi altra cosa quindi mi piacerebbe questa cosa quindi per tutti coloro che magari vingono nel fan da calcio o comunque che ne hanno voglia se volessero acquistare sul nostro store o qualcosa del genere saranno in arrivo altre grafiche quella di di Gomez e del Papu quindi però se volete magari acquistare le fan da consigli proprio per come simbolo ancora meglio ok vai detto questo ci vediamo domani perché purtroppo oggi non potrò fare delle live come vedete non sono ancora rientrato quindi ci vediamo domani con un nuovo video mi raccomando sempre qui su carmi special non mancate va bene alla prossima ciao